Il Signore è salutato ancora questa mattina, ho diversi da leggere e condividere insieme l'importanza della parola che il Signore ci parla ancora quest'oggi e si trova in Proverbi 6, il versetto 16 a 19. Sei cose odia il Signore, anzi sette gli sono in abominio, gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spargono sangue innocente, il cuore che medita di segni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimone che proferisce menzogne e chi semina discordie tra fratelli. Il Signore se lo ha dato.